Sostanza e qualità da parte di voi c'è la campagna, anche l'assistente del campino Sostanza e qualità, lui è un giocatore con delle caratteristiche particolari, per cui prima di entrare in forno con tutti gli infortuni non sempre è stato pronto per poter riscutare in una banca di un gioco finalmente da qualche settimana è più costino e i risultati stiamo vedendo Siamo super contenti dei 17 punti in classifica perché all'inizio del campionato sicuramente non ci saremo aspettati in questi 17 punti, ovviamente con il mammario di aver perso alcuni punti per strada però tutto torna e probabilmente avremo più fortuna in qualche altra occasione riusciremo a recuperare quei punti persi negli ultimi minuti Siamo domande da parte degli altri prodigli, a momento attenziamo Il combattente del centro campo anche oggi ha fatto la sua parte e ha cercato di tamponare in tutte le tre parti del campo Io sono convinto che oggi andare a trovare il fio nel luogo penso che non è valga la pena Il risultato è stato ottimo, la partita è stata altrettanto ottima per cui pensiamo a dimenticarci questa partita da stasera e da martedì a riprendere con lo stesso figlio perché non dimentichiamoci che la prossima settimana abbiamo una partita di gruppo di spettica appunto di casetta e grazie